Direttore, è importante partecipare a un momento così importante e Coldiretti porta la sua testimonianza a questo messaggio di pace verso Rondine, Cittadella della Pace, nella marcia che apre lo Utopic Fest. Sì, il nuovo comitato di giovani impresa di Coldiretti, appena eletto, ha aderito con buona volontà a questa iniziativa, con entusiasmo a questa iniziativa, perché ovviamente abbiamo tutti bisogno di pace, abbiamo bisogno di lavorare, di lavorare sereni anche sotto l'aspetto imprenditoriale, quindi oltre che per la vicinanza a Rondine lo facciamo anche rispetto ad una strategia che è quella di cercare di arrivare quanto prima possibile alla pace, del ripristino della normalità, anche nell'attività di impresa che a noi interessa molto, sia sotto l'aspetto agroalimentare che dell'accoglienza agrituristica. Come diceva il Presidente Vaccari, per mettere in moto le coscienze bisogna mettere in moto anche il fisico, quindi questa mattinata, questa passeggiata che fa bene, come diceva lei, anche alla salute, questo è uno degli obiettivi da sempre, anche di Coldiretti. Certo, anche questo fa parte dei nostri obiettivi, quello di coniugare la sana alimentazione con la salute, l'attività sportiva, ma anche il moto che sicuramente in un'azienda agricola non manca mai.